cari sensuali affascinanti irresistibili pesci con venere al vostro fianco per così tanto tempo e anche con giove la fortuna può venire a trovarvi in un momento qualsiasi le cose che state iniziando in questo momento sono baciate proprio sui glutei santi emblema proprio di fortuna quindi non date spago alle tensioni nervose che dovesse creare mercurio opposto cercate sempre di chiarire fino allo sfinimento ogni dettaglio di eventuali contratti accordi di qualsiasi rapporto sociale sia importante significativo nella vostra vita c'è un vecchio adagio che recita preferisco arrossire subito piuttosto che impallidire poi fatelo vostro in questa settimana soprattutto nelle giornate di lunedì sabato e domenica si fornica con tanta fantasia e con tanto abbandono che bello che bello fare l'amore con voi